Un po' di sedi, un po' di mobili rotti. Un armaggio vecchio, tutto rotto. Un attrezzo che serve per la ginnastica. Le cose che sono utilizzabili preferiamo portarle a riciclare. Per me personalmente è un po' frustrante la cosa perché la sera quando vedo quante cose utili ci sono ancora qua che dopo vanno buttate nelle bende. Alla barca, alla roulota, al divano, alla piccola lampada, al computer. Alla barca. Un assaggio. Alla barca. Un assaggio. Alla barca. Grazie a tutti.